La carriera brillante di Walter Ricci nel mondo del jazz. Fin da piccolo, Walter si è appassionato alla musica grazie all'influenza del padre, anche gli musicista. Nel 2006 ha vinto il prestigioso premio nazionale Massimo Urbani, avviando così la sua carriera nel jazz. Entrato nel cast di Domenica in nel 2009 come vocalist, ha avuto l'opportunità di duettare con artisti internazionali come Mario Biondi e Michael Bublé. Nel corso degli anni si è esibito sia in Italia che all'estero, partecipando anche al tour spiritual di Fabrizio Bosso. Walter Ricci e Arisa. La nuova storia d'amore. Arisa ha ufficializzato la sua relazione con Walter Ricci condividendo sui social le prime foto di coppia. Nelle immagini, i due appaiono affiatati e felici, mostrando momenti di vita quotidiana insieme. La cantante, grande ammiratrice della musica di Walter, invita i suoi fan a partecipare ai suoi concerti, manifestando apertamente il suo sostegno. La coppia appare radiosa e complice, con Arisa che condivide un messaggio di felicità e gratitudine per il momento speciale che sta vivendo. Approfondimenti. 1. Walter Ricci. È un musicista italiano con una brillante carriera nel mondo del jazz. Nel 2006 ha vinto il premio nazionale Massimo Urbani, che ha segnato l'inizio del suo successo nel genere. Walter ha anche partecipato al programma televisivo italiano Domenica in come vocalist, collaborando con artisti internazionali. Inoltre, ha preso parte al tour spiritual di Fabrizio Bosso, confermando la sua fama sia in Italia che all'estero. La sua passione per la musica e il talento vocale lo hanno reso una figura di spicco nel panorama musicale italiano. 2. Arisa. È una famosa cantante italiana, nota per la sua partecipazione e vittoria al Festival di Sanremo nel 2009. È riconosciuta per la sua voce potente e la sua presenza scenica. Arisa ha recentemente reso pubblica la sua relazione con Walter Ricci tramite i social media, condividendo momenti di vita quotidiana insieme. La cantante ha manifestato apertamente il suo sostegno per la carriera musicale di Walter, coinvolgendo anche i suoi fan nei concerti del partner. La coppia ha ricevuto l'attenzione dei media per la loro storia d'amore, apparendo sempre felici e affiatati. 3. Massimo Urbani. È un premio nazionale dedicato al jazz italiano, istituito in onore del sassofonista Massimo Urbani. Vincere questo premio è considerato un riconoscimento prestigioso nel panorama musicale jazzistico italiano, significando talento e eccellenza artistica. 4. Mario Biondi e Michael Bublé. Sono due noti artisti internazionali nel panorama della musica jazz e pop. Collaborare con artisti di calibro come loro ha sicuramente contribuito ad accrescere la reputazione di Walter Ricci nel mondo della musica, permettendogli di affermarsi a livello internazionale. 5. Fabrizio Bosso. È un famoso trombettista italiano, riconosciuto a livello nazionale e internazionale per il suo talento nel campo del jazz. Il tour spiritual al quale Walter Ricci ha partecipato insieme a Bosso ha offerto a entrambi l'opportunità di esibirsi in importanti concerti e festival, consolidando la loro fama nel genere.